Amici dalla Navi Marmara, adesso sulla Viva Palestina, Convoy to Gaza, cosa la fa tornare, cosa gli fa venire voglia di ripetere questa esperienza? E' la stessa ragione che mi ha spinto la prima volta, esprimere la mia solidarietà alla Palestina, continuare a muovere questo argomento, perché nonostante Israele dica di aver ridotto il blocco su Gaza, questo non è vero, quindi bisogna continuare. Da dove sei partita e qual è stata l'accoglienza nelle città in cui vi siete fermati? E' stato un po' lungo giorno, un po' lungo giorno in Paris, c'erano un po' di ralle e eventi, il ministro è venuto a visitarci, l'hospitalità è fantastico. Siamo partiti da Londra sabato, abbiamo fatto un lungo viaggio direttamente fino a Parigi, a Parigi ci sono state una serie di manifestazioni, siamo anche stati ricevuti da Londra, sindaco, abbiamo passato lì anche una notte e poi il giorno dopo siamo partiti per Lione, dove abbiamo anche ricevuto un'accoglienza fantastica, c'è stata una manifestazione per la città e l'appoggio è stato veramente forte. Ci dispiace che il sindaco di Torino non l'abbia accolta nonostante ci fosse stata questa sollecitazione, visto che Torino è gemellata con Gaza, però la gente che è qua, credo con un numero significativo di presenza, gli dà il benvenuto in questa città con anche l'appoggio di nuovi mezzi e nuove persone, e quindi un saluto, un ringraziamento e magari se vuole dire ancora qualcosa come messaggio. Siamo scusa che il maire qui non ti riceveva, anche se ci chiediamo per questo, veramente, in diverse volte, ma soprattutto perché Torino è anche in una comunità con Gaza, e quindi ci sono stati, ma speriamo che le persone qui ci hanno dato il benvenuto, e ci ringraziamoci per essere qui, e se volete dire qualcosa di più altra cosa? Mi piace il supporto che abbiamo avuto quando siamo arrivati e ovviamente il supporto che ora è molto importante, e è anche molto importante per le persone che hanno chiamato il convoy per la prima volta, e in questo convoy c'è solo una piccola parte della squadra che hanno avuto il precedente Viva Calistina, quindi questa impressione è enorme, perché stanno tornando a New Zealand, Australia, Canada e America, quindi non solo dal convoy per Gaza, non solo quello che hanno visto in Gaza, ma anche più importante come le persone e le risponsi delle persone in cui stiamo parlando, non solo, quindi vi ringraziamo per il vostro appoggio e molto importante per noi questo appoggio, gli incontri anche con le persone durante il convoglio, soprattutto per le persone che partecipano al convoglio per la prima volta, in questo convoglio in effetti la maggioranza delle persone stanno partecipando per la prima volta, quindi tutto questo appoggio lungo la strada è davvero importante e ve ne ringraziamo. Grazie.